ecco la nostra prima sosta per per assaggiare un attimino qualche cosa non è che abbiamo fame la nostra non è proprio fame no è così cosa ha preparato l'agriturismo ecco ha preparato una tortina salata con gli asparagi selvatici non quelli di oggi qui abbiamo omero con saleppa quella non deve mancare Maria cosa stai mangiando il panino che ci ha offerto Caterina col pane di Fonni fatto da lei e la coppa dentro buonissima sempre fatta da lei speriamo di gradirla qualche altra volta perché buonissima abbiamo anche un tocco diciamo europeo con il cioccolato ecco tanto la carta ce la portiamo a casa assolutamente no